Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente su Robocraft che me l'avete chiesto in milioni e oggi è proprio un episodio specialissimo perché siamo in webcam e sono in compagnia con Simone di Simon & Simon Ciao a tutti, eccomi qui, stiamo usando lo stesso robot tra l'altro, modificato Sì, siamo in una formazione specialissima e vi chiedo scusa della finestra là in fondo che fa un po' in controluce Ah, inizio già ribaltato, perfetto Ah, il mio non decolla, non decolla, non decolla No, ma io sono il contrario No, devo togliere l'arma che ho messo in più Aiuto, dove sei? Sì, ho la aiuto, oddio Ma sto andando al contrario Oddio, ma iniziamo uno più bene, eh Eh, il contrario Io ho i comandi invertiti, vabbè Ma questa è una delle mappe nuove, sì Sì, questo è quello con la neve No, ma hanno distrutto No, ma hanno distrutto i vazzi che mi facciano andare avanti Ma può giocare così, dai Eh, perché è partita? Ah, forse si sta togliendo il ribaltamento Aiuto, non posso perdere No, 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 sono sotto il ponte Dov'è che sei te? Ma hanno ucciso Non potevo più muovarmi Ma tu mi vedi? No, non ti vedo Adesso vengo da te a fare lo spettacolo Ah, ecco Ce l'ho fatta e mi sono tolto dal ribaltamento Yes Molto bene Io volevo anche vedere di fare un video E una sfida, no? Raggiungere la base per due volte senza essere distrutto Se non ce la faccio Mi faccio una penitenza da solo Tipo, non so, mi lancio nel fango Mi... Fuori, non lo so Di cosa del genere Non so che idea hai tu Non lo so, scrivetelo nei commenti Mi potrei prendere io Se perdo così Cercate di trovare qualche fantasia Non che mi devo appugnalare Un suicidarmi Cosa del genere Ma che sei nella base Ammazza il tizio Ammazza il tizio Ah, c'è un altro che mi sta Aiutando Dai, muori, Bluestar Ce ne sono due Ma io lo sto colpendo Muoviti No, stavamo facendo una bella battaglia Diciamo, dai Vaffanculo, dai Muori, stronzo Dove sei? Oh, c'è uno quella che Ah, no, bene Ok, che è lontano Ah, occhio Ah, che pedo No Uff Guarda che ti uccida il prossimo colpo Togliti la sua traiettoria Cazzo, ora Forca, come dire È lontano anche Eh, non so Qui devo cercare di Mirarlo un po' Prima ha anche uno scudo potente Sai quelli che Di Siamo le triplay Dovrei riuscire a andare di nuovo in base Mi stai cappottando come se non ci fosse un domani Ma che domani Oggi Dai, 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 dai Ho perso Vaffanculo Almeno sono ridistito Ristito fino alla fine Yeah E sono arrivato alla base Yeah Ciao Mi vedete? Lo so che c'è la finestra Però vi vedete lo stesso Eh, vi piace questa baglia qua? Destroyed 9700 punti Mi hanno dato 11.000 E qualcosa Devo aggiungere qualche razzo Se no qua non andiamo avanti Continuiamo con il Ma io direi di continuare con il mio Con il mio Perché cazzo si chiama? Me lo sono già dimenticato Metric void Ci ho messo Un po' di armatura Vedete qua Prima c'era tutto in vetro Ma ci ho messo questi qua Per dare un po' più di resistenza al mio mino E mi sembra che funzioni Almeno non mi one-shotano Mirandomi a Proprio lì in mezzo Che è la parte più debole che c'è il vetro Farvi vedere se ho scambitato qualche cannone Di livello 10 Uno di livello 10 ce l'ho Però Ci sta Ci sta qua Ok Ma No, scegliamo un altro Un veicolo O continuiamo col Metric void No, continuiamo col Metric void Gli ho fatto qualche modifica Se no non mi andava avanti Però io vorrei anche testare Il Robo 7 Quello che ho costruito appena Che livello è? 7 7 Dai usa quello Io uso il Metric void Ah sì, dai proviamo Tanto che Prima dovrete avere visto Il video velocizzato Della costruzione di questo veicolo Cercherò di farlo più Più veloce che posso Magari con una bella musica Tipo 10 secondi Io ne ho mai pensato Eh, vero, vero Fatto È impossibile Con il Camtasia posso registrare Tipo 400% Della velocizzata normale Una cosa del genere Sì Invece con Che tu stai usando Com'è che si chiama così? How apps No, per montare i video Ah, Windows Live Movie Maker Eh, quello lì non puoi velocizzare i video Sì che puoi velocizzare Ah, puoi velocizzare? Sì, sì Io Vi ricordo che ho ancora attivo Il contest di Robocraft Per avere I codici Bonus Che non funzionano Però vabbè Ci stiamo lavorando sul fatto che non funzionano Ma io vi avevo mandato Nei mail ai disolvatori Non ci ho ancora guardato Se mi hanno risposto In cui Forse ci ho chiesto Che già molti Voi state rosicando Perché io ho il bello acconto Lo so che è rosicato Però Vi voglio regalare qualche codice Anch'io Stati calmi E rosicato di meno Così, no? Cazza, ora Già mi spavano Aiuto, aiuto Dove sei? Sono alla base Tu? Eh, sono andato avanti In desplorazione No, perché Aspetta un attimo Che Vai Prima Facciamo macellare un po' Quelli davanti E' molto agile Diciamo Perché l'ho fatto bello largo Almeno Rischia meno di ribaltarci Ci ho messo anche delle ruote In mezzo Di lato E in mezzo Anche abbastanza veloce Diciamo Ci ho messo dei Dei jet di livello 7 Tu livello 7 No Uh Che pelo Mi stava colpendo Ho fatto una manovra evasiva Di quelle Aia Tutto uguale Mi ha fatto già Tanto Minchia L'hanno distrutto con un colpo Quello Aspetta Devo girare sotto e sopra Ce la faccio Dai, dai, dai Andiamo verso la base Queste volte la vinciamo Dai La vincerei te Mi stanno distruggendo Ma perché te tutti Ah, c'è uno stronzo lì Che voleva farmi l'imboscata Uno stronzo volante Ce ne sono due di stronzi Che Sono messi Troppo al lato No? Così uno passa tranquillo E lo one shot Allora a sinistra Ah, c'è un altro one shot Dove sei adesso? Sei questo? Sì C'ho la banderetta in via No Ti hanno ucciso? Vabbè No, quasi C'è uno che No 200.000 contro di me Ecco Non ti vedo Ah, vabbè Usciamo? Sì Sì È un po' Non voglio dire un po' Che c'era Ma non sono proprio Wow Che aveva quello lì Ce l'hai un po' Di livello basso basso Tipo di livello 2 Uno di livello 4 Cato del genere Perché vuoi provare? Eh, voglio provare Quello di livello 2 Che ho fatto Come mai Hai fatto un po'? Eh, volevo fare un po' Semplice Semplice Lo chiamo Ci sei? Puoi? Lukao? È caduto Skype Non so se è caduto a me O a lui Sempre connetto Allora Sì, io ci sono Francesco Cazzo Invite Sei caduto anche dal gioco? No, no Mi dice che non sei connesso E invece sono connesso Invita mi te nel platone Allora Allora Non so C'è È arrivata? Ti è arrivata? No Mi dici che ci sei Vabbè Prova fare battaglia E vedi se mi esce Vediamo se mi esce L'invito No, no, no Ecco Sviluppatore Se sto guardando questo video Questo qua è un bug da risolvere Quando cade qualcuno Poi non si può più unire Eh sì, infatti Vabbè Che facciamo? Chiediamo qua questo video Sistemiamo e ne facciamo un altro Dai, dai Facciamo così Vi teniamo aggiornati E vi riempiamo di video Perfetto E mettete pollici in su Iscrivetevi sia al canale di Simon & Samuel Sia al mio E un'altra cosa importante È Iscrivetevi Alle nostre pagine Facebook Se volete magari rimanere più aggiornati E per aiutarci a sviluppare Sviluppare di più i nostri canali Magari dandoci consigli Mandandoci messaggi O magari fan art Non so Una volta pensi che mi hanno dato una fan art Ah, fico Bello A te te l'ho mai mandata? No Quindi mandatemi fan art Se volete che Adesso facciamo anche noi La guerra dei canali Come Parliamo di videogiochi Quelli sul server Se volete che vinca io E vinciamo noi Mandateci più fan art Se volete che vinca Yukao Mandate più fan art a lui Dai Ti odio Yukao Ti odio Sei malvagio Pum Guarda che l'hanno visto Che ti ho sparato Spero che è arrivato Il proiettile contro di te Ciao a tutti ragazzi Ciao Ciao